Dal 26 settembre al 5 di ottobre, alla Sagra del Tresto di Ospedale Teoganeo, vieni a mangiare all'antica trattoria del Degheio. Gusti di una volta della cucina veneta, seduti a tavola al caldo, serviti e reveriti con le posate di ferro e piatti di ceramica, lasagne con ragù di oca, pigoli con ragù di musso e con le sardelle, gnocchi alla veneta, con lo zucchero uvetta e cannella, i ravioli alla zucca e per secondo, sua maestà, l'oca sotto onto coibisi, trippe, musso, baccalà, salame alla braccia, galletto arrosto con patate, tutto accompagnato da soppresse porchette, polenta e vino buono e come dolce la focaccia. Solo dai matti dell'antica trattoria del Degheio c'è tutto sta roba. Siamo al Paladegheio, all'area Fiera del Tresto, a Ospedale Teoganeo, perché mancare?